Fatta la legge, ora la Fil Commission dovrà funzionare. Attorno all'Aquila e all'Abruzzo si registra sempre più fermento. Le riprese del film di Milani con Antonio Albanese qualche giorno fa in centro, la Sabatini che gira la puntata di un programma sul Gran Sasso e tant'altro. La Fil Commission è stata al centro di un confronto all'interno dell'Aquila Film Festival con la presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale Daniele Damario, artefice del testo unico della cultura. Incontro che arriva dopo due anni di interlocuzione tra la regione e gli operatori privati, che ora sono molto soddisfatti. Damario ha confermato infatti lo stanziamento di circa 2 milioni di euro per i bandi che la regione si impegna a far uscire entro il 2023. Sì, allora l'incontro che c'è stato si è inserito all'interno delle nostre attività. Noi da un paio di anni, da quando abbiamo avviato il nostro progetto Abruzzo Film Industry, siamo scesi, tra virgolette, in campo per spingere, per pungolare la regione affinché si arrivasse alla costituzione dell'Abruzzo Film Commission. Abbiamo fatto un po' da cerniera e tra l'altro ha fatto molto piacere che l'assessore Damario in questo incontro pubblico abbia riconosciuto il ruolo dell'Aquila e dell'Aquila Film Festival in questa attività, anche dicendo che sicuramente è un elemento in più a favore della sede aquilana dell'Abruzzo Film Commission. Quindi è un grande riconoscimento e una prima notizia importante anche per la città. Inizieremo a incontrarci con la regione territorialmente da maggio per arrivare a condividere le scelte, a fare, si spera, le scelte migliori guardando agli altri modelli che in Italia già ci sono e sono avviati da tempo ma capendo da quei modelli cosa si possa prendere e cosa non sia adatto alla nostra regione. Va creata insomma un'industria cinematografica, questo porterà benefici a tutto il territorio anche in termini economici. Poter lavorare gli operatori sul territorio e a cascata anche tutto ciò che è manovalanza o che è supporto, ristoranti, alberghi, elettricisti, falegnami e magari nel corso degli anni crea anche uno sviluppo ancora maggiore si accenna per adesso all'idea di un cineporto insomma riuscire ad unire i set che l'Abruzzo offre naturalmente anche ad una organizzazione, un'offerta di servizi e poi magari col tempo anche delle infrastrutture che possano radicare ulteriormente sempre di più l'industria cinematografica in Abruzzo.